È online il nuovo numero di Piemonte delle Autonomie, la rivista di scienze dell'amministrazione promossa dall'Assemblea Legislativa con la collaborazione di illustri docenti universitari. In apertura l'editoriale di Franco Pizzetti, professore di diritto costituzionale all'Università di Torino sul nuovo ordinamento degli enti locali e le regioni. La rivista è diffusa in forma digitale e gratuita.